da parte di Wade ancora da fermo contro Rose dopo il cambio di LeBron James la finta salta contro Rose, pennellata di LeBron, 5 punti in fila sono quelli che separano le squadre questa somiglia è di tanto alla serie contro Boston gara 5 improvvisamente c'è lui ma lui sarebbe il primo a sapere che questo può essere solamente l'inizio e finché non arriva l'ultima tappa di questo viaggio questi sono solo parziali, vadano per la maglia ciclamino non per la maglia rosa, ci ho detto questo canestro senza alcun tipo di senso per gli uomini e gli piace l'odore del napa tardi nella partita